Il presidente del lancio di Teramo lancia un appello alla maggioranza e alla minoranza che usciranno dalla prossima tornata elettorale di regione, chiedendo la pace sociale ed una convergenza di idee sulla ricostruzione. I costruttori teramani sono in grave difficoltà soprattutto per le lungaggini della ricostruzione per il sisma 2016-2017, dopo quelle registrate per il 2009. I danni economici sono notevoli in primis per gli sfollati teramani, circa 4.000, ma anche per gli imprenditori che sono costretti ad anticipare ancora le somme per il sisma aquilano, alla luce della ricostruzione a singhiozzo e dei finanziamenti che vanno a corrente alternata, aggravando pesantemente la situazione. Indubbiamente la ricostruzione, l'abruzzo nell'ambito della ricostruzione è il fananino di coda. Questo a mio avviso, a nostro avviso, è dovuto anche al fatto della scarsa capacità di aggregazione tra le forze politiche, perché purtroppo noi in passato abbiamo visto troppe volte situazioni in cui la politica ha saputo fare poca sintesi, sono state sempre contrapposizioni e poco lavoro al dialogo e alla costruttività. Quindi il nostro appello è che si uniscano, indipendentemente da chi vincerà, per il bene comune e per il nostro abruzzo. Noi abbiamo problemi a vario titolo, intanto quel poco di lavoro che è partito stentano gli incassi. Purtroppo siamo distratti dalla ricostruzione del 2016-2017, ma non dimentichiamo che c'è una buona fetta anche dalla ricostruzione del 2009. Molte imprese che stanno facendo i lavori del 2009, ad esempio, non riescono ad incassare le somme perché c'è un continuo cambiamento all'interno degli uffici, dell'organico, nel senso che i contratti scadono, poi vengono rinnovati in ritardo e quindi rimane sempre la situazione nel limbo. Grazie.